Funivie del Monte Bianco, uno spettacolo naturale sulla montagna più alta d'Europa. Tra ghiacciai perenni, con le funivie del Monte Bianco, scoprirete l'oasi naturalistica del pavillon e la sala cristalli, con le formazioni più belle e rare del mondo. Avrete la possibilità di effettuare piacevoli e semplici escursioni ai piedi del Monte Bianco e dalla terrazza dei ghiacciai. Ammirerete uno scenario naturale di straordinaria bellezza. Ecco l'offerta delle funivie del Monte Bianco, semplicemente un tuffo nella natura.